In ambito fotografico non penso possa esistere delusione più grande di quella che si prova quando si spende tempo e energie per cercare di informarsi su una macchina fotografica dopodiché si risparmia per acquistarla nel frattempo guardando freneticamente recensioni che ci spingono all'acquisto e recensioni invece che ci esortano ad aspettare il modello successivo. Un bel giorno arriva finalmente il momento in cui abbiamo abbastanza soldi da permetterci di acquistare la macchina fotografica che abbiamo individuato come quella giusta per noi e appena la prendiamo in mano la sensazione è meravigliosa abbiamo finalmente tutto quello che ci serve torniamo a casa e facciamo freneticamente una serie di fotografie al nostro cane nella stanza al buio ed ecco che sopraggiunge immediatamente la più colossale delle delusioni perché le nostre immagini sono piene di rumore digital noise quindi abbiamo speso un sacco di soldi per portarci a casa una fotocamera che ci restituisce delle immagini con rumore digitale non dite di no lo so ci siamo passati tutti ci sono passato anch'io questa è una delle più grandi delusioni a cui arrivano prima o poi nella loro vita quasi tutti i fotografi che siano amatori che siano professionisti tutti quanti torniamo a casa con una fotocamera che reputiamo bellissima la più bella che abbiamo mai avuto e rimaniamo in qualche modo delusi quando scopriamo che comunque anche questa macchina ha del rumore perché tutte le macchine in qualche maniera producono del rumore nel corso del video di oggi andrò a parlarvi di come gestire questa delusione e di come arrivare a una soluzione che ci permetta di essere più sereni quando facciamo le nostre foto e i nostri video ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono cesare mi occupo di fotografia da tanti anni e anche io ho avuto la fase in cui cercavo la fotografia più pulita possibile la fotografia con meno rumore possibile è un procedimento a mio modo di vedere perfettamente normale perché nel momento in cui cominciamo a sperimentare quella che è la cattura di immagini a livello non necessariamente professionale però nel momento in cui ci mettiamo attenzione quindi non stiamo più facendo lo snapshot da mettere su instagram non stiamo facendo la foto del dentifricio da far vedere a nostra nonna a casa col telefonino che non capisce niente non riesce ad aprire la foto per farle vedere se è quello il dentifricio che le serve quindi stiamo facendo una foto per il gusto di farla o per il gusto di esibirla quindi vogliamo che venga un po' bene e se vogliamo che venga un po' bene ovviamente vogliamo curare ogni suo aspetto tra cui la nitidezza e ovviamente la pulizia quindi queste sono cose che andiamo a guardare e sono le prime cose che andiamo a guardare perché nitidezza e pulizia sono proprie anche delle immagini prodotte a livello hobbistico amatoriale e dilettantesco quindi anche un esordiente totale che fa una fotografia è in grado di rendersi conto se la sua fotografia ha un buon livello di nitidezza un buon livello di contrasto e un buon livello di pulizia queste sono cose che basta avere gli occhi per rendersene conto quindi anche se la foto non è un capolavoro anche se non c'è dietro un pensiero anche se fa schifo perché è una foto buttata lì giusto per provare la macchina ci rendiamo conto se la fotografia è pulita oppure no se la fotografia è nitida oppure no prima di cominciare io vi ricordo che se argomenti di questo tipo vi possono interessare il consiglio è sempre comunque quello di iscrivervi al mio canale il bottone è subito qui sotto se attivate anche la campanella delle notifiche verrete costantemente disturbati da notifiche di miei caricamenti quindi non fatelo mentre non ci saranno assolutamente conseguenze per voi se lasciate un like a questo video mentre ci saranno delle conseguenze per me perché sarò molto felice detto questo dopo questa intro lunghissima arriviamo un po al nocciolo di quello che è il contenuto di oggi il rumore digitale che cos'è il rumore digitale ci sono diversi tipi di rumore dobbiamo innanzitutto sapere e ve la faccio breve non vado tanto nel tecnico primo perché non sono un tecnico sono un utilizzatore finale quindi se vado nel tecnico poi arrivano degli ingegneri degli elettricisti e chi più ne ha più ne metta che mi fanno notare che sono stato impreciso quindi non dico niente semplicemente mi limito a constatare che esistono diversi tipi di rumore esiste un rumore che è connaturato nel sistema fotografico che stiamo usando tutti i sistemi fotografici hanno del rumore quindi anche se facciamo la cosa più naturale del mondo quando non vogliamo rumore ovvero scattiamo con gli iso più bassi possibile un minimo di rumore c'è sempre perché comunque il rapporto segnale rumore ovvero il rapporto tra la luce e il boost che noi diamo a quel segnale a quella luce che abbiamo comunque esiste anche se noi teniamo basso il boost comunque un po' di rumore c'è comunque ovviamente se teniamo bassi gli iso e se abbiamo una buona illuminazione questo rumore sarà meno percepibile però io vi invito a provare a scattare con gli iso base nativi della vostra fotocamera e andare a zoomare su un'area molto scura vedrete che comunque un po' di rumore c'è e soprattutto un po' di rumore viene fuori nel momento in cui facciamo un recupero quindi se abbiamo scattato la nostra fotografia ci sono delle zone molto chiare come può essere il mio incarnato delle zone molto scure come può essere questa zona qui nel momento in cui io vado in post produzione a fare un recupero delle ombre su questa zona qui verrà fuori del rumore è inevitabile perché comunque sto boostando il segnale in post oltretutto quindi probabilmente è ancora peggio sarebbe stato meglio avere un'esposizione corretta in ripresa sarebbe stata l'opzione migliore ma non sempre è possibile se io vado a boostare il segnale comunque tiro fuori del rumore digitale ora il rumore può essere di diversi tipi può essere rumore di crominanza quindi abbiamo dei difetti a livello di colore oppure di luminanza e quindi abbiamo la classica grana la granella la granita che non piace quasi a nessuno perché ci sembra portare le nostre foto verso un livello più amatoriale più da smartphone avete presente lo smartphone quando scatti una fotografia di notte viene una schifezza ed è piena di rumore perché lo smartphone non è in grado di gestire quel procedimento con quella poca luce sorpresa sorpresa neanche la più bella delle fotocamere in grado di gestire quel processo con così poca luce una fotocamera molto bella molto prestante avrà un sensore più grande un algoritmo migliorato un processore molto migliore e quindi magari se la caverà un pochino meglio ma non tantissimo perché comunque non è adatta a fare quel tipo di cose nel momento in cui scattiamo con una luce insufficiente e con dei parametri che non premiano la nostra esposizione avremo sempre un po di rumore che cosa voglio dire con parametri che non premiano la nostra esposizione tenete conto che è vero che all'aumentare dei valori iso andiamo ad aumentare il rumore presente nelle nostre foto però non è quel parametro direttamente responsabile del rumore ma sono tutti quanti i parametri ovvero nel momento in cui io scatto con gli iso altissimi lo sto facendo magari perché sto utilizzando gli altri parametri in un altro modo faccio un esempio sono di notte sto scattando a mano libera se io potessi mettere 20 secondi di esposizione la mia foto verrebbe perfetta e non avrei bisogno di alzare gli iso ma siccome sono a mano libera 20 secondi di posa non posso farli allora tengo veloce il tempo di scatto e alzo gli iso se io potessi gestirmi i parametri la fotografia verrebbe bene anche con poca luce siccome però so che questo primo non sempre è possibile e secondo se siamo alle prese con il dilemma del rumore probabilmente non siamo fotografi navigati che usano il treppiede quando serve e che non lo usano quando non serve ma stiamo muovendo i primi passi e siamo appunto alle prese con la delusione della scoperta che la nostra nuova fotocamera non è invincibile come pensavamo ma anche lei presenta problemi di rumore ora la riflessione che vi porto oggi che è una riflessione che in realtà non è mia non è tanto originale perché ho già visto dei contenuti proprio su youtube che parlavano più o meno della stessa cosa ma mi sono deciso a portare un contenuto di questo tipo primo perché ho visto che il rumore digitale è un argomento che sta a cuore a tantissimi quindi mi sembra un argomento comunque ancora caldo in secondo luogo perché è molto probabile che alcune delle persone che sono iscritte al mio canale magari non siano iscritte a tutti i canali di fotografia italiani e qui e oltretutto alcuni dei canali che ho visto io erano in inglese quindi siccome molti mi dite io non so l'inglese vi porto dei contenuti che magari io ho visto in inglese magari in italiano ancora nessuno ha fatto non è questo il caso perché qui ci sono già contenuti su questo argomento tornando al nostro rumore digitale ci sono da dire ci sono da fare un po di considerazioni la prima il rumore digitale è visibile nel momento in cui noi andiamo a zoomare la nostra immagine ovviamente noi sappiamo che c'è questo può essere molto fastidioso perché noi abbiamo fatto fatica magari a comprare quella fotocamera bellissima che c'è costata un rene un polmone e anche un paio di molari e quindi vorremmo che rendesse al meglio però non possiamo farci niente ogni tanto ci sarà del rumore dentro nelle nostre immagini e non c'è assolutamente nulla che ci possiamo fare perché se abbiamo scattato in quel modo ormai le immagini sono così e ci ritroveremo magari a dover scattare di nuovo in quel contesto e quindi un po di rumore ci sarà sempre per venire a patti con questa cosa vi invito a considerare quanto segue se noi zoomiamo l'immagine 100 per cento su un monitor da 27 pollici vediamo molto bene il rumore io vi invito a provare a postare quella stessa foto senza fare riduzione del rumore provate a postarla su instagram provate a postarla su un social qualunque la fotografia diventa così piccola e viene comunque anche compressa quindi ci sono una serie di procedimenti in corso viene scalata così tanto che diventa impossibile vedere quel rumore quindi per il 99 per cento degli utilizzi già ce la siamo sfangata perché il 99 per cento delle foto che facciamo finisce esclusivamente su instagram non verrà mai stampata non verrà mai nemmeno messa su un sito web il 99 per cento delle foto finisce esclusivamente su instagram e nel quindi nel 99 per cento dei casi possiamo tranquillamente ignorarlo il rumore digitale possiamo anche non fare la riduzione del rumore in post posto che ci sono delle intelligenze artificiali adesso dei software in che fanno una riduzione del rumore che fa paura quindi c'è anche quello da dire però detto questo noi possiamo postarla con la massima serenità secondo me perché tanto ingrandita il rumore lo vediamo a piccola così il rumore non si vede più il rumore sarebbe un problema grosso magari in stampa se è veramente eccessivo perché se stiamo facendo stampa fine arte stampiamo un formato grosso come il 50 per 70 a quel punto si vede a quel punto sì che è un problema perché a quel punto stiamo facendo un ingrandimento effettivamente di un difetto che sarà a questo punto molto palese molto evidente anche lì bisogna vedere quanto palese quanto evidente perché la maggior parte delle fotocamere di oggi hanno comunque una gestione del rumore un algoritmo che ti gestisce il rumore in modo che il rumore di crominanza sia quasi totalmente assente c'è solamente la grana che è fastidiosa per tutti tutti quanti ci siamo passati però c'è anche da dire una cosa in certi tipi di fotografia è più evidente in certi altri tipi è quasi completamente assente vi faccio un esempio nella fotografia naturalistica se c'è un po di grana si tende a non notarlo nemmeno perché comunque la grana si confonde con quello che è l'ambiente naturale quindi se ci sono delle foglie uno sfocato si tende a non notarla nemmeno più la grana mentre magari su una fotografia di prodotto still life si nota di più perché lì ci sono delle parti magari tecniche che devono essere per lo stile che viene adottato oggi deve essere tutto estremamente pulito e levigato ovviamente non viene in nostro soccorso il confronto con l'intelligenza artificiale perché oggi sapete benissimo possiamo generare delle immagini con l'intelligenza artificiale io per esempio sto sperimentando con leonardo ai fatemi sapere in un commento se vi interessa la mia esperienza con leonardo ai che è un'intelligenza artificiale è carina è carina per carità anzi la sto usando la versione gratuita la versione a pagamento ti fa fare più cose sarebbe molto carina carina non bella nel senso funziona non sto dicendo che non funzioni però le immagini che produce sono plasticose io guardo una di quelle immagini dico finta 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 cioè lo vedi subito che è finta lo vedi subito che per come è composta per come per il rapporto spaziale prospettico degli oggetti fra di loro la prima cosa che dici guardi ci c'è qualcosa che non va se la guardi con più attenzione dici ok che cos'è che non va la persona ha sei dita oppure i colori sono impossibili oppure la luce è sbagliata oppure la profondità di campo non può funzionare in quel modo cioè c'è sempre qualcosa di sbagliato quindi è carina è un giochino per me non la uso a livello professionale comunque non la uso per produrre cose che mi devono rappresentare perché così non è però quelle immagini hanno una caratteristica sono completamente prive di rumore e il più delle volte anche prive di texture di fatto sembrano più dei disegni piuttosto che delle fotografie sono perfettamente pulite perfettamente levigate quindi visto che ormai siamo invasi di immagini come queste siamo abituati a vedere immagini senza texture immagini completamente lisce e quindi vedere il rumore può darci ancora più fastidio vi voglio dire una cosa in un'epoca come questa a mio parere avere della grana del rumore quindi non della crominanza ma il rumore di luminanza nelle nostre immagini potrebbe essere un modo per far vedere per rendere evidente allo spettatore che quella è una foto vera perché l'intelligenza artificiale questo attenzione l'intelligenza artificiale può introdurre della grana ovviamente ma gli utenti non lo fanno perché gli utenti sono drogati sono inebriati da questa levigatezza e quindi la vogliono pulita la vogliono capito la vogliono così finta mentre a parte che in molti generi fotografici è inevitabile quando si fa fotografia di eventi di concerti o anche reportage se è per quello spesso e volentieri cede il rumore perché è proprio insito nel tipo di fotografia nella street cioè chiedete ai fotografi street ci saranno anche lì gli appassionati di fotografia digitalona completamente pulita ma la fotografia street secondo me è molto bello che ci sia della grana poi possiamo anche ampliare il discorso io per esempio vi dico una cosa io non sono particolarmente fan del noise digitale delle mie macchine fotografiche perché non vado matto per quel tipo di noise ma magari io vado a introdurre del noise diverso magari vado a introdurre mi sono scaricato dei preset con dei tipi di noise magari che richiamano un certo tipo di pellicola e per certe cose non per tutte assolutamente non per tutte ma per certe cose dove voglio dare un tocco un po più autoriale vado a mettere una grana di un certo tipo su alcune delle immagini quindi c'è anche una ricerca nel mettere la propria grana molti fotografi fanno un discorso di questo tipo e lo utilizzano proprio come cifra stilistica le mie immagini sembrano scattate con quel tipo di pellicola perché metto quel tipo di grana ed è una cosa che soprattutto ai giorni d'oggi in cui come vi dicevo con l'intelligenza artificiale è tutto finto è una cosa terribile per per me per un fotografo in generale io guardo apro instagram e lo chiudo immediatamente perché non è più posto per me io non mi trovo bene lì lo apro e vedo persone nude altre persone nude continuo a scrollare a persone nude che ballano a ok persone nude che fanno ginnastica persone nude che sentono musica persone nude in macchina persone nude che fanno foto per carità sono persone nude e basta però in mezzo a tutte queste persone nude io vedo fotografie di animali che non c'è fotografie ciao vedo immagini finte di animali che non esistono immagini finte di architetture che non esistono di palazzi che non esistono di radure meravigliose che non esistono tutto finto tutto che non esiste non è posto per me cioè è diventato un fumetto instagram e non è posto per me in un panorama come questo secondo me avere delle fotografie che presentano una grana come cifra stilistica quindi non un rumore eccessivo brutto che rovina l'immagine ma un rumore stiloso un rumore che abbiamo scelto e lo possiamo fare sia selezionando un valore iso particolare in determinate situazioni sia aggiungendo poi una grana in post produzione anche perché come vi dicevo il rumore digitale delle nostre fotografie poi se la mettiamo su instagram sparisce quasi completamente quindi dobbiamo aggiungerne se vogliamo che si veda una volta rimpicciolita la foto piccola così che comunque noi la guardiamo grande così sul cellulare quindi non è facile vedere la grana in un'immagine grande così la dobbiamo aggiungere e secondo me questo può diventare proprio quello che ci distingue dalla massa in questo momento perché una foto con del rumore è evidente che non è finta che non è fatta con l'intelligenza artificiale ci racconta qualcosina di più di quello che stavamo guardando tra cui ci racconta magari che le condizioni erano tali da dover scattare in un certo modo perché c'era poca luce e diventa un qualcosa che rafforza la nostra immagine ripeto io questo senza nulla togliere alla delusione iniziale però io vi porto questa testimonianza proprio per dirvi l'ho avuta anch'io la delusione iniziale ma come ho speso 3000 euro per comprarmi una macchina bellissima e c'è ancora il rumore appena supero iso 3200 tanto fino a 3200 è perfetta però appena lì supero c'è rumore anche sì c'è rumore anche lì perché comunque il funzionamento è il medesimo la entry level ti dà rumore già dopo gli 800 invece una macchina un pochino più prestante magari arrivi fino a 3200 con la massima serenità però quello che vi voglio dire è che questo rumore non sta rovinando le vostre foto è un'impressione iniziale è un'impressione che abbiamo all'inizio perché come detto la prima cosa che percepiamo nelle nostre foto soprattutto se sono foto brutte è la pulizia quando noi cominciamo a fare foto io ho già raccontato questo aneddoto ridicolissimo quando io ho cominciato fotografavo bottiglie di birra vuote agli angoli delle strade perché stavo sperimentando con la mia macchina e quando stai fotografando il nulla e io stavo fotografando il nulla cosmico perché non avevo un soggetto fotografavo delle bottiglie vuote quando non hai nulla da fotografare stai fotografando il nulla la prima cosa che noti è la pulizia vedrete che non appena mettete un soggetto nella vostra foto che può essere una bella ragazza che può essere un cane che gioca che possono essere i vostri bambini può essere qualsiasi cosa vedrete che non appena metterete un soggetto in quella foto il rumore passerà in secondo piano perché quella foto vi starà parlando di un momento che avete vissuto vi starà parlando di un momento della vita di chi avete fotografato di un momento della vita vostra fotografica in cui avete realizzato quello scatto che magari non è bello però vi sta comunque raccontando qualcosa e in quel momento il rumore passa in secondo piano perché non è più la cosa più importante il rumore è la cosa più importante solamente se non c'è niente nella foto e allora guardiamo queste cose ma non appena la foto ci racconta qualcosa non appena la foto ha un valore il rumore passa in secondo piano ci sarebbe da fare una riflessione a margine sul fatto che non è tanto il rumore il problema dell'aumentare gli iso quanto la perdita di gamma dinamica questa è una cosa che a me preoccupa molto di più io quando scatto delle foto con iso alti vedo calare la gamma dinamica in maniera molto drastica ed essendo prevalentemente un fotografo per aziende quindi interni e prodotto io di solito faccio in quei due generi la gamma dinamica è essenziale non ci devono essere dettagli bruciati da nessuna parte quindi alzare gli iso a me non piace per questo più che per il rumore ci sono delle soluzioni ci sono delle soluzioni fatemi sapere se vi interessa perché comunque ne parleremo in capitoli successivi che vi invito a iscrivervi per non perdere altrimenti poi il discorso rimane incompleto a questo punto ci fermiamo qui perché questo video è già venuto fin troppo lungo io vi ricordo di lasciarmi anche un like se avete imparato qualcosa come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao